un problema di connessione. I'm sorry but I had a connexion problem. So now let's go on. Hereditato la casa di mia nonna e di mamma mia. Demolita parte di un muro ok. So now we have to clean a house. Buy some new stuff. So we want to... Tony is the the guest. You see that he would have a room where he can have some fun. So you need a computer, sofa and etc etc. So now we have to work so hard. Let's go. Oh yeah. A picture of an MS. It's very important doing this. Always doing. Do this. bisogna sempre fare un giro nei giardini prima di cominciare e anche se non richiesto io vi consiglio sempre di tagliare l'erba so before doing internal works in the house I suggest you to check every time if garden need to be working you will learn gardening ability and this is the the important thing you have to do always check you will grow up faster earn you will earn as well career points with extra point if you check here you can see the round map where you can see icon on them this is what you have to remove on the grass I know it's quite hard you will need a lot of time but you will earn extra career point one here is very important to grow in a more rapid way a livello di carriera ricordate sempre di controllare il giardino quindi qui ci dedicheremo prima di entrare all'interno alla cura della parte esterna and we will fix outside the garden we will fix outside the garden we will fix outside the garden Savage flowers. Spontaneous plants. Questo rimuove le ortiche con le mani. Roba che se le rimuovi con le mani normalmente è un po' di pizzica. Ortica! Anzi quasi quasi faremo così. Oh no! No, I can't work this garden. I have not the ability to use... ...grass cutter. Ayayay. No buono no good. As my French professor says... ...questo va bene, questo non va bene. His name was Professor Nave. He was a French professor in the 80s. When I... I studied there... ...in France... ...in Colomie. I always remember... ...he had the... ...moustache... ...moustache. ...I was only... ...11 years old, but... ...I remember him... ...because he was a... ...very gentle... ...person. Ho raccontato un po'. Ho detto no buono no good quello che diceva... ...anche il... ...maestro... ...di quando avevo circa... ...manzi in realtà... ...sorry I was... ...nine years old... ...not eleven... ...si years old... ...e dicevo che quando mi sono trasferito con la mia famiglia... ...in Francia... ...ehm... ...per imparare... ...il francese... ...un maestro... ...avevo un maestro che si chiamava... ...Nave di mio cognome... ...come nave... ...ma senzala è finale... ...ehm... ...quando mi insegnava... ...le parole in francese... ...per dirmi che... ...una... ...una parola non era corretta... ...dicevo... ...diceva... ...non è bello questo... ...questo va bene... ...questo non va bene... ...nonostante siano passati tanti e tanti anni... ...lo ricordo ancora veramente con grande affetto... ...allora... ...andiamo un po'... ...ritorniamo un po' al gioco... ...let's... ...come back... ...le game... ...a lo stai... ...ah... ...KTM... ...clear... ...ok... ...job done... ...allora... ...so... ...we have to... ...beat... ...this... ...this wall... ...ah... ...not this one... ... Non è bello questo, questo va bene, questo non va bene. Ragazzi, il grande e mitico professor Knopf, Messie Knopf. Grazie a tutti. 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 non è molto grande, è molto piccolo questo è il tipo di casa sono molto presenti qui presenti, non è un gif ok infosibile infosibile no cancel ok, quindi ok i putt'em out of here grazie grazie ora ora potremmo 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 ci vuol quindi poi this is the second time that I play with this game I remember that this is not very big and large room consola mappa buono buono questo è colonna altovarlanti ok standard 1, 1, and and 2, 1, 2, 3, and 4 surround ahi ai ai non si passano appena facciamo così i put them in there here dolby surround riflettore 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 reflex relax la spostiamo questo let's change a place Ok. Su, dunque. Quanti? Due, giù, ok. Su, 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 su. Allora, questi. Non così. Così? Non così. Cosa si va a fare? Too much noise. Too much noise. Insieme a questo, però, forse dovrei cambiare l'ordine. Quanti? 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 e fu nì gulì e fu nì gulàm e fu nì gulàm fu nì pù di fu nì pù lì e 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 ok ok rgb e 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 ma io ho due fans RGB ma il mio sistema non è molto performante dicevo che stavo ridendo perché nell'ambito gaming gira una sorta di luogo comune diciamo così che dice che praticamente però questa è ironia ovviamente che se hai accessori RGB aumenti la potenza dei fotogrammi, degli fps e mi è venuto in mente in alcuni forum dove si faceva ironia e mi è venuto in alcuni Ho preferito mettere il colore più scuro alla spalla del computer, per evitare i riflessi della luce nel monitor. I chose to paint and to use the darker color on the back because for avoiding light reflex into the monitors. Not bad, non male! Beh, qua dobbiamo sistemare un po' questo. Allora questo lo lascerei qua. No, questo quasi lo metto qua. Lo spazio è poco. Ce la fa passare. E allora questo... Potrei metterlo qua. I'll place it here. Job done. Scendo per cento. So, io voglio sentire sapone per fibra Questa è un po' questo... La piaccia è molto importante è... Per la piaccia è molto importante. Sì, è stampa, è piaccia. È tutto il tempo. Questa è piaccia. eccoci qua scusate ma ma bisogna idratarsi allora sviluppo della sauna e casa ecco qua qui c'è molto da fare c'è praticamente da fare da sistemare una casa so now this is a quite hard mission so we have to to decorate you know from scratch ok 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 Ricordatevi sempre, quando iniziate la carriera, di controllare sempre che non ci siano erbacce all'interno dei giardini. Sempre guardatevi per la carriera, per la carriera. non c'è un paio let me set a couple of the ok Ok. Allora, grigio, 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 bianco. Termus 08 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Presidentissimo, direttore, super mega presidente, ben ritrovato. Quale novità ci porti questa sera? Termus 08 ha appena brindato con due bits. Grazie mille, CIR2. Grazie, direttore. Alla salute. Dimmi un po' cosa porti di bello stasera. Ottimo. Ed io, come sempre, non mancherò alle tue live. Ragazzi, amici ed amiche, passate anche voi a lasciare un bel follow al canale dell'amico Fernbus. Per chi non lo conoscesse, è un carissimo amico streamer che stima in niente e proprio di Minuki dalla Toscana. Passerete delle ore spenderate, vi farà scompisciare dalle risate, ma è proprio assicurato. Scendo, scendo. Bella Sims, lo sai mi ha fatto ricordare quando ci giocava proprio all'inizio. Ma si parla proprio, mamma mia, appena usciva. Sì, Fernbus mi ha fatto morire dalle risate. Soprattutto i dialoghi, all'inizio proprio, quando quella stava ancora al computer, mi ha fatto morire da ridi. Se non fossi stato per la Cina sarei rimasto ancora in live. Però mi ha fatto morire, con la mezzoretta mi ha fatto proprio, come si dice a Napoli, mi ha fatto spassare. Cioè mi ha fatto proprio divertire tantissimo. E non lo dico perché stai in live, ma è perché è così. Oltre ad essere una persona molto umile, insomma sai, come si dice a Siena, sai portare il cappello. Simpaticissimo. Ok, allora qua mi pare, beh, fuori squadra però. Li abbiamo messi tutti e due. Ottimo, quindi sei a quota 9, se non erro. Ho 10. Ah, buono, piano piano. Vedrai che il canale crescerà. Bisogna avere solo tanta pazienza. Poi una volta che le persone conoscono il tuo modo di fare stream, poi si affezionano. e quindi... Aspetta oh. Stai quasi a quota... 500. Ottimo risultato. Direi più che ottimo. Allora... Questo blocco... Quasi quasi prendo queste qua. Quasi, se siete guardate questo video live o... su YouTube. Ehm... Poi... Se siete guardate a Facebook, a mio amico, Fernalduzzoit. easy is very funny streamer streams from the tuscani please take a follow 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 you fall over gratis non so paga sosteniamo i piccoli ma è di streamer o mai sosteniamo tutti gli streamer ma diamo una mano soprattutto a quelli che diciamo così sono all'inizio o no fern bus tu mi puoi capire e io qua adesso fermus 08 appena brindato con due bits grazie mille c2 e direttore grazie alla salute ecco adesso mi tocca praticamente non dico di fare una casa per intero poco ci manca qua questa mi sa che è la terza volta che sto concludendo il gioco sto sto completando il gioco questo qua è e c'erano alcuni punti che mi ricordavo vagamente che fossero un po complicatucci da portare avanti ma ora che l'ho rifatto è stato meno complicato ma questo è perché ho capito dopo la terza volta ho capito il meccanismo altrimenti era rimasto ancora in un punto particolare dove praticamente bisogna sistemare un piccolo giardino in stile giapponese dove si devono fare diversi lavori fra cui oltre ad eliminare l'erbaccia a piantare a piantare un po di parto non piantare scusami comprare dai bonsai e trovare la posizione giusta dove dove doverlo e poterlo montare mettere insomma io da questo punto di vista sono una schiappa schiappa designer però e forza orison portalo perché se richiesto cioè se piace vuol dire che lo stai lo stai portando avanti in maniera ottima lo stream allora io qua quasi quasi ci metterò questo bagnetto un poco particolare che dici fermo se lo metto questo questo water a forma di bacio qua in forma di labbra e di cuore ok allora vediamo se riusciamo a ruotarlo e mettiamolo così anzi no meglio laterale così almeno quando è san valentino si divertono o meglio stanno un po più tranquilli quindi tutta la casa bianca ok allora cominciamo a mette il paimento beh giustamente speriamo di non aver intaccato il bagno meno male devi sapere che quando l'ho fatto la prima volta e ho giocato per la prima volta ad house flipper i pavimenti li mettevo alla come vava volevo utilizzare un termine toscano però penso che mi capito e allora all'inizio io mettevo il pavimento così senza cercare di stare nella nel quadratino della della stanza dell'area poi dopo andavo ad aprire la porta e mi trovavo tipo il pavimento messo qua e dice ma com'è possibile è una due volte la terza volta quando arrivavo qua non tiravo la linea e andavo a fare il corridoio ma facevo come ho fatto adesso e ho risparmiato un sacco di soldi all'inizio non ti dico quanto spendevo in questa casa se ne andavano proprio come si dice a napoli i soldi capala ovvero un mucchio di soldi allora ne lascio una divisa e cominciamo mamma mia poi dopo nei prossimi appuntamenti incomincerò la parte un po più imprenditoriale cioè acquisterò le case farò il restauro e poi le venderò next live in next live stream after this series we will buy houses in bad condition and we have to work very hard for making good home good houses good home lì ferm bus io lì non l'ho completato per esempio mi mancavano 4 5 lavori e infatti poi da lì ho iniziato poi a portare house flipper qui su su twitch da lì ho iniziato a prendere un po di spunto e ti fammi vedere se va la serie diciamo che non riscuote un grande successo però tutto sommato nelle visualizzazioni va meglio un po su youtube perché qualcuno diciamo trova una sorta di soluzione a qualche punto un po più complicato se propino per non specializzato a 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 ah miglioramenti pittura this one um this one allows you to uh paint four blocks in one time look at this so now we will paint so fast very fast fast and furious ho la fucking impressione che però ne ho comprati troppi di questi ah perfetto è finito ok so allora fammi di no io direi uno di questi i se amazon 2 i se bof a u 2 3 il 3 Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, 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 sì. Sì. Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Allora, scarpeira Caffè lascia pire la mette a moco we keep the corridor free from anything I will put neon lamp no not this one non questi qua illuminazione però forse vediamo un po' let me check no no good ne dovrei mettere un'altra soffitta ma no 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 ok devo abbattere questo volo qui ok no 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 relax ticcol 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 relax ticcol 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 ok all right arabatana bella sprite that's all right very well ambo fam in the all right all right arabatana bella sprite oh 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 ah oh Shower, qui la doccia. La fila di porta... Allora, mettiamo il pavimento. We must first... Place the pavimento. Ok, portato a posta. Allora, illuminazione. Now, lights. Quattro. 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 And four. One, two, three, four. Non perfettamente allineate e coperte, però. Quattro. Quattro. We always try to buy the smaller one. Per cerchiamo di prendere sempre la più piccola. Quattro. 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 Mettiamo qua un po' di spazio. Per passare. I keep... ..space to passing. Entending... ..... Inside the room. Grum e Casandrino. Perfetto. Sì. Ok, radiatore, qua dice di metterla, beh qua ce l'avrei a disposizione, vedo la maschera, non la so, la mettiamo un po' più sotto, cerchiamo di metterla, indietro questo muro. So, I'll try to put the... So, I'll try to put the wall. So, I'll try to put the wall. So, I'll try to put the wall. Questo è il sifone di scarico. Installiamo il rubinetto e le zanzare qua. Moschitos. Fanno po' qui. Bene però, diciamo che è accettabile. Allora, cassettiera, ma... Cassettiera... Cassettiera... Due cassettiere, ma... Allora, bianco, white, so I'll buy two of this color. Allora. Hmm, one here. One here. Solo che poi dopo abbiamo qua. Ok. Amarei, no? Grinch. Bang. Grinch. 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 Ottimo direi. Grinch. Grinch. Allora. Li mettiamo qua. Allora, Gesù, ora. I'll try to count. One, two, three, quals, six, six. Sette, otto. E mezzo. Quindi otto. Uno, due, tre, quattro, four. One, two, three, four. So, il centro sarà proprio qui. Allora, abbiamo preso questo. Quindi così. Come and see. Come and see. Come and see. **** ma allora ripeto un cello lo metterei I'll put this here in the middle allora sembra amareno che confusione no qui no, not here allora mettiamo cano not here 1 dai 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 1 2 ok just 2 1 2 3 4 si ma è qui devo dipingere però fanno qualche opinione spello mirror metti piastrelle ahhh ecco ok ceramica di due tipi ok ma allora liscia la metterei this one I'll use here 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 non è proprio il modo più realistico di lavorare I know this is not the way the realistic way to work but I know I'm not a professional smooth operator smooth operator smooth operator smooth operator breccacanale brecco anale hola hola brecco brecco la parola che ho detto prima è canale detta con la pronuncia toscana mi raccomando non prendete anche perché non sarebbe stata assolutamente mia intenzione essere scorrere qualora si fosse fra inteso chiedo scusa ma non era e non sarebbe stata assolutamente assolutissimamente mia intenzione qui appiamo quasi qui appiamo quasi un momento 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 Bisogna prestare molto attenzione alle richieste dei clienti, quindi come in questo caso se vi chiedono di mettere due tipi di mattonelle o di usare due tipi di vernici è molto importante seguirlo attentamente ed eseguirlo perché anche se dipingete di un solo colore la missione diciamo che va ma non vi dà dei punti extra durante la carriera so you you must read with attention what the guests is looking for for example if he says that he needs to kind of painter you must use two colors and not just one because you will finish and the the mission but you will not earn extra point perfect now we have to build the sauna the sauna so 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 one a one a two a three a four a five six seven eight eight c'è bisogno sempre di prendere qualche materiale in più da lavoro in modo tale poi da non rimanere assicco so what we need is buying buy a little bit more di trattino vasso z ha appena iniziato a seguire il canale grazie per il follo thank you benvenuto di z grazie mille benvenuto alla live e grazie per avermi dato l'onore di aver scelto questo umile canale benvenuto di cuore e qui sto tendendo di sistemare un po anzi più che sistemare qua devo creare una sauna qua dentro e devi sapere che il cliente è molto esigente e quindi se non gli fai lavori come vuole in questo gioco ci sono dei piccoli trucchi sarò brevissimo se il cliente ti chiede ad esempio di dipingere in una stanza con due colori tu puoi anche dipingerla con un solo colore però non ricevi punti extra dal gioco mentre invece si segui l'ordine del lavoro del cliente allora tu alla fine oltre a guadagnare diciamo quello che è previsto dal contratto guadagna anche un extra e punti extra che ti permettono poi di sbloccare le abilità che sono giardinaggio muratura idraulico tinteggiatura e adesso ti dico subito scusa ma è un po caldino giardinaggio e a si pulizia abilità nel nella pittura insomma ti permette di avere manualità e questi questi poi ti permetteranno di essere più veloce nel fare i lavori sono piccoli dettagli che ho notato soltanto dopo la terza volta che ho finito il gioco e qui poi ci sono delle dlc che hanno rilasciate che poi metterò a più presto farò un gameplay con le nuove dlc allora qui mi sa che però manca l'interruttore in una sauna interruttore se lo metto qua fuori questo mi spegne le luci qua vabbè poi lo mettiamo alla fine allora banca per sauna otto prendiamo questo ora mi pare che c'erano anche ok banca angolare eccola qua quindi facciamo uno due tre e quattro perfetto qui ce n'entra forse uno e mezzo vediamo un po' un po' sempre questo qui compra tanto e mi ricordava una mezza cosa poi vediamo di risolvere il problema un po' meglio forse ho capito come si potrebbe fare gli angolare qui su ok e mo devo dire qua con me facciamo così no non ci va per un pelo metto così questo non ci va ovviamente troppo stretto e lo sapevo vabbè allora mettiamo altri quattro questo ortalà allora facciamo così mettiamolo qua non mi piace non mi garba un me harba ma piace la potevano fare un po più piccola sta allora queste queste due mi mancano ancora uno ok ok Oh, che dà se ci va a questo? Ok, già c'è un angolare qua, non si può vedere, ok perfetto, vediamo un po' se ci entra, è venuta male, male, male però, abbiamo fatto la panchina là, allora, due bocce a testa, allora, ok, una qua e una qua, radiatore, radiatore, ah prima, classidra, classidra, this one, questa, put this here, radiatore, radiatore, this is the radiator, non va là, mettiamolo così, mamma mia, che, mettiamo in separe qua, orribili, anzi quasi quasi, basta lo mettere qua sicura, qua si sa l'alba. basalgamo... facciamo così... metto uno qua... radiatore... radiatore... questo ovviamente... no, non sta bene questo qua... si fanno una piccola arrambicata qua... allora... asciugamano... questa... di nuovo... una qua... un'altra qua... secchio... per scolare la pasta quando è bella calda... questa la metteremo qua... concludi l'ordine... non ci siamo... not is not finished... now... here... dipingi con i colori... ghiaccio argento e bianco... ghiaccio argento e bianco... 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 white... bianco... bianco... white... white, flat white. Allora, from here too. I will play paint till I reach the 50% percent 50 cents Andiamo avanti, alfa november tango, india eco, november, india eco, double tango, alfa Andiamo I forgot to, I was forgetting to paint with two colors, two different colors and I was losing extra points and special points means that I was losing extra stavo quasi per perdere punti extra e guadagno extra per questa piccola distrazione ok perfetto I'm going to get rid of my own I'm going to get rid of my own allora, 1, il resto 1 Creme, crema. Questo dovrebbe essere in grigio di 34%. Usa in fotografia per il white balance. Quando shooting fotografia, o digital fotografia, you need, if you want to have a so professional result, you have to use some tricks, knowledge. Voila! Le jeu sont fait. Poi, l'armadio. Lo amacchiamo qua dietro. Stealth. Questo dovrebbe essere il migliore. Cioè... Red. E' certo. Allora, questo che si può mettere... Non. La cosa che mette qui. Per avoir... Anesi Armchair opening Ah, ma questo è i comodini Comodini Questo lo mettiamo qua No, questo lo tocca Mettiamolo qua Ah, ok Allora, let me see Dunque, dunque, dunque Vediamo un posto mobile Ammarino Uy, com'è lungo Questa è enorme Beh, vediamo se ci va qua Ok Frigorifero No, no No, questo This one No, giant Ammarino Amareno Poi Pianale a cottura a gas Gas E gas E gas Prendiamolo Prendiamolo dopo Prendiamolo dopo Ah Questo qua This one Forse sì, no, non New York, è per forza qua. No, 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 quello non va bene, questo è il posto giusto. Il posto giusto è qui. Due di questi. Dettaglio. Allora, so. Uno qua, let me see. Ok. 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 No. Non lì, ma qui. E direi forse di... ecco, forse questo è così. Ho posizionato nel senso longitudinale perché la luce si avrà in questo modo qui rispetto all'altra placca luminosa. Ok. Questa è la ultima lampa. Questa è la lunga lampa. Perché la luce si avrà in questo modo. Ora la luce è molto diffusa. Come vedete. No. 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 ah mi stavo scordando del tavolo I was forgetting the table, andiamo un po' se riusciamo a metterla qua 4 sedie, Indiana Ingolf 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hai parlato il protobel B2, ah si si si, garbage 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 10, 10, 10 cambia con il vasodicinceno Memosci questo qua non va bene questo quasi quasi lo metto qua ma forse ma io metto l'ho qua Manca qualcos'altro, vediamo un pò, piastrelle, eh, no, toilette, ah. Un pò, piastrelle, ah. Sicuramente aprire la porta e trovarsi il vader di fronte non è proprio al massimo. Ah, ok, no, io non posso fare una modificazione. Wow. 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 And see you next week on Thursday. Thank you. Grazie mille. Ciao. And startlebone radio. Bye. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.